E' stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania l'avviso pubblico sostegno al lavoro autonomo al fine di creare opportunità di inserimento lavorativo attraverso misure di autoimprenditorialità e autoimpiego a favore di disoccupati occupati a rischio di perdita di occupazione, giovani e donne. Con questo avviso, si legge in una nota, la Regione Campania intende rispondere alle esigenze del territorio in termini di occupazione, crescita e di valorizzazione delle competenze delle risorse umane, supportando la progettazione e la realizzazione di attività imprenditoriali, sia individuali che cooperative, per migliorare l'accesso all'occupazione di disoccupati. L'iniziativa sarà svolta con il supporto della società Enaos Sviluppo Campania. La dotazione dell'intervento, si precisa, ammonta a complessivi 20 milioni di euro, destinando alla creazione di imprese femminili risorse pari a 10 milioni di euro dello stanziamento complessivo programmato. Ad ogni singolo beneficiario è possibile assegnare un aiuto di 25 mila euro come sovvenzione diretta in denaro. Le domande potranno essere presentate online sul sito sviluppocampania.it dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania. Le informazioni e l'avviso sono consultabili dal sito internet della Regione Campania.